Ciao fioi, oggi con sto caldo che sta una bea tartare dei scampi e perché no aggiungendo anguria, lime e un pizzico peperoncino partimo tagliando l'anguria a tocchetti piccoli, mi raccomando, e tirando via le semenze fatto questo sgusciamo i scampi, tiriamo via l'intestino, li tagliamo a tocchetti e gli aggiungiamo l'anguria mettiamo insieme del peperoncino fresco tagliato a tocchetti, una bea grattata di buccia del lime e misciamo per bene il tutto a sto punto impiattemo, si o no guarda che robetta, visto che ormai faccio un spritz, bello 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 beh se vi piacete il video mettete un like, ciao!